Musica Ma non servono? Vabbè però avete sicurezza Incidente tra via Evrea e via Meaglia A Rivarolo Canavese questa sera mercoledì 9 maggio intorno alle 18.30 A scontrarsi una Forte C-Max con a bordo due persone e un bimbo piccolo E una Fiat Siro con a bordo due uomini Pronto l'intervento di un giovane che passava di lì e si è fermato a prestare soccorso Ed è allertato i 112 Sul posto sono intervenuti la crociolossa di Castellamonte e Rivarolo La polizia locale, i vigili del fuoco di Rivarolo e l'elicottero dei vigili del fuoco Il conducente della Stilo sotto shock è stato subito a soccorso E' trasportato all'ospedale di Quarnier Qualche livido ma niente di grave per il conducente dell'altra vettura e il bambino Se con una prima ricostruzione pare che la Stilo proveniente da via Meaglia Se con una prima ricostruzione pare che la Stilo proveniente da via Meaglia Non abbia rispettato lo stop e abbia impattato contro la C-Max che proveniva da via Evrea Grazie a tutti